Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì quando l'alta pressione interesserà ancora l'Italia, però possiamo notare più ad ovest l'inconvenza delle perturbazioni atlantiche, di fatti impulsi perturbati inizieranno a interessare le isole britanniche, la Francia e via via la penisola iberica con più decisione, proprio nella seconda parte di settimana, da venerdì in poi, torneranno delle precipitazioni anche su parte del nostro paese. Intanto guardiamo questa mappa delle precipitazioni, giornata stabile, asciutta un po' dappertutto, ma inizieranno le prime precipitazioni nella seconda parte del giorno al nord-ovest. Incombono quindi le correnti più umide atlantiche, ecco la tanta nuvolosità al nord, dicevamo entro la serata anche qualche precipitazione al nord-ovest, nubi basse sul nord-est ma senza piogge, mentre al centro-sud in un contesto di variabilità ci saranno comunque più schiarite. Ulteriori dettagli e approfondimenti vi trovate scaricando l'app di Travi Meteo.